Ciao amici, mi sono fatto la barba, la doccia, ho mangiato, un bello caffè ho preso e mi sento ben, fresco e pulito, sono qualcosa per aiutare la giornata. Grazie a tutti. Volevo fare queste idee anche per informare tutti gli amici e parenti che noi stiamo bene, teniamo duro, andiamo avanti. Ciao.